se 2 elevato alla x è uguale a 4 elevato alla y più 1 e 27 alla y è uguale a 3 elevato alla x più 1 quanto vale x più y? Ciao, io sono Mirko e questo è come lo risolvo. Riscrivo la prima equazione ed applico le proprietà delle potenze. 2 alla x è uguale a 4 alla y più 1. 4 è 2 alla seconda. Quindi posso scrivere 2 alla x è uguale a 2 elevato alla 2y più 2. Quindi x è uguale a 2y più 2. Stessa cosa per la seconda equazione. 27 è 3 al cubo. Quindi 3 alla 3y è uguale a 3 alla x più 1. Da qui segue che 3y è uguale a x più 1. Queste due equazioni, x uguale a 2y più 2 e 3y uguale a x più 1, sono vere contemporaneamente. Basta risolvere il sistema. Moltiplico la prima per 3 e la seconda per 2. Sostituisco 6y nella prima. Da qui si ricava che x è uguale a 8. Dalla seconda si ha che se y è uguale a 8 per 2 è 16 più 2 è 18. E quindi x uguale a 8 e y uguale a 3. x più y è 8 più 3 e quindi 11, che è il risultato. Se il video ti è piaciuto ricorda di iscriverti al canale e di iscriverti al canale. E se non mi sono i suoi social. Ciao!